Piaciuta la scenetta della commozione per gli afghani? Ognuno ha la sua maniera, come nelle cose. Ci sono Salvini e Meloni che si sono subito schiantati contro i talebani tagliagole, ne hanno chiamati così, con quella loro solita narrazione da favola raccontata con personaggi improbabili perfino per una favola. Si sono dimenticati che i tagliagole, come li chiamano loro, sono amici del loro amico Putin, ma Salvini e Meloni si sa, loro si sbriciolano già al secondo grado di separazione. Nel centro-sinistra si sono dimenticati di aver sostenuto questa inutile guerra solo per vent'anni. Ve lo ricordate? Rutelli, come la rivendicava. Berlusconi si è perfino dimenticato di essere stato lui a mettere la fiducia sull'intervento militare vent'anni fa, mentre era presidente del Consiglio. Comunque, piaciuta la scenetta della commozione per gli afghani? Tenetela bene a mente, salvatevi le foto, perché è finita, è già finita. Ieri il presidente Mario Draghi e Angela Merkel hanno deciso sulla protezione umanitaria di quanti hanno collaborato con le istituzioni italiane e tedesche in questi anni. Proteggeremo chi ha lavorato con noi, ha detto Draghi, perché non si riesce evidentemente a dismettere mai questo vizio feroce di considerare i disperati mica per la loro disperazione, ma sempre in base alle classiche domande del chi ti manda, di chi sei amico, cosa hai fatto per noi, cosa sei disposto a fare per noi. Poi hanno corretto il tiro. Hanno detto che si occuperanno anche delle categorie più vulnerabili a partire dalle donne afghane. Tutto benissimo, tutto bellissimo. Se non fosse che di donne afghane in Europa, a cui è stato negato lo status di rifugiate, quindi tecnicamente che dovrebbero essere riportate, se ci pensate nella bocca dei talebani ci sono negli ultimi 12 anni 30.000 donne adulte, 21.000 bambine, 4.000 ragazze tra i 14 e i 17 anni. Il 76% di loro è ancora in Europa. Eh sì, se ci pensate alla notizia che l'altro 24% è stato rispedito indietro là dove oggi incombe l'orrore. E forse sarebbe il caso di cominciare a pensare a loro, ad esempio. Ma subito. Ma quindi? E quindi l'accoglienza, l'aiuto di cui tutti parlavano fino a qualche ora fa? Dall'Anci ci fanno sapere che i sindaci italiani sono pronti a fare la loro parte nell'accogliere le famiglie afghane. Matteo Biffoni, che è il delegato Anci per l'immigrazione, spiega Non c'è tempo da perdere, sappiamo bene come i civili che hanno collaborato con le nostre missioni in Afghanistan oggi siano in forte pericolo, soprattutto donne minori. Il governo si sta muovendo per salvare vite umane attraverso l'azione delle prefetture sul territorio e i sindaci mettono a disposizione la propria esperienza. Per questo abbiamo scritto al ministro dell'Interno, la Morgese, e abbiamo avvisato il ministro della Difesa e specifica. Dobbiamo essere molto concreti. Sarà la storia dare un giudizio su questi ultimi 20 anni di presenza militare in Afghanistan. Oggi siamo consapevoli che è il momento di aiutare il governo a mettere in salvo vite umane. E sapete chi ha risposto al lanci? Indovina un po'? Certo, Matteo Salvini, che tuona. Accogliere in Italia alcune decine di persone che hanno collaborato con la nostra ambasciata mi sembra doveroso, ma che nessuno ci venga a parlare di accogliere decine di migliaia di afghani, in Italia abbiamo già accolto 35.000 clandestini. Gli altri paesi europei facciano il loro. Gli sciacalli, insomma, hanno dismesso i panni dei piangenti e sono tornati nelle loro vesti di sciacalli. Facile, prevedibile, liscio. Del resto, se ci pensate, è comodo lanciare appelli. Poi c'è sempre il tempo per farli intiepidire. Commuovetevi, ma solo da lontano. Nel Mediterraneo friggono sotto il sole 488 persone che sono a bordo delle navi Rescue People e Geovarenz. Sono qui a poche miglia dalla costa. Sono qui, ora. E sono i disperati che vomiterà l'Afghanistan nei prossimi mesi. Sono della stessa pasta. Sono dello stesso identico dolore. E qui si torna al punto di partenza. Le regole di quest'epoca impongono di commuoversi e empatizzare solo con quelli che non possono però turbare il nostro quotidiano. Un distanziamento affettivo, oltre che sociale, come quello che abbiamo imparato con il virus. Così si rimane tutti disinfettati. Deve essere una nuova forma di sovranismo. Il sovranismo della commozione. Cioè ci si commuove solo per quelli che non hanno modo di suonare il nostro citofono. Se arrivano sotto casa? Beh, se arrivano sotto casa sono colpevoli di non essere morti. E quindi? E quindi ci siamo commossi per niente. Buon mercoledì.